ah ah oh e che scuotri c'ha? ti ucciso? non credo oh no oh no ci sono dei player zombie perchè devo andare ora? perchè questi sono portati che è? ok quasi non puoi sfondare facciamelo in più non sarà una buona porta aaaaaaah non sarà una buona porta sarai una buona porta cos'è questo? ehi sono qua forza venite bellissimo andare da lungo muore muore almeno mi darà un po' di armi uuuuuh che è quel fucile lì? fucile di player morti oh questo si che mi serve vediamo un po' che altro giacchino uuuh uuuh è più salve più salve a cale dobbiamo andare in fretta qui da qua perfetto perfetto non c'è cosa credo no ma io ce l'ho fatta flopper uuuh 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 è stato facile flopper mi serve tu flopper mi serve sempre uuuh 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 merda vuol trovare il modo vuol uscire da qui forse posso uscire per un balzello però uuh oh no uuuh ah maledetto cratino qui è dimisi questo numero seguito i morti che esplosante dimmi percati il tuo stesso fucile perfetto 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 posso creare anche un altro vai ok ok vado con la piattaforma mi ha calduto io l'ho ucciso ecco non troppo la piattaforma questo è il lancio no posso picconare la barriera con il mio piccone come faccio a deciderli tutti bravo bravo siiii edad